Entrerà in funzione domani ad Agropoli un nuovo autovelox, il tipo Scout Speed. Lo strumento, che funziona in modalità dinamica, sarà in grado di rilevare in automatico il superamento dei limiti di velocità e sanzionare l'automobilista indisciplinato. Bisognerà quindi rispettare le regole previste dal codice della strada, velocità massima di 50 km orari all'interno dei centri abitati e di 80 km orari sulla SP430. Il dispositivo sarà dunque mobile, montato su un'auto della polizia locale, potrà controllare l'intera città. Con l'attivazione del nuovo dispositivo, ha detto il sindaco Coppola, diamo risposta alle numerose istanze pervenute dalla cittadinanza di un controllo sulle corsi automobilistiche che si verificano da tempo su diverse arterie del territorio comunale. Le rilevazioni, sia diurne che notturne, verranno effettuate in maniera capillare quindi anche sulla Cilentana. L'invito è agli utenti della strada a osservare i limiti di velocità imposti dal codice della strada. Questo garantirà di non venire sanzionati, dice Coppola. Il nuovo autovelox giunge a un mese di distanza da quando è stato smontato il famoso strumento posto tra gli svincoli Agropoli Nord e Agropoli Sud della Cilentana che tante polemiche aveva innescato. Anche ora però non manca chi è contrario all'apparecchiatura. Per l'avvocato russo di Noi Consumatori si tratta dell'ennesimo strumento utilizzato per fare cassa da parte del Comune di Agropoli.